ciao a tutti e bentornati in tessila news quest'oggi parliamo di piccolissimi accessori ma che sicuramente potranno fare la differenza le vostre borse e vostri zaini e non solo quest'oggi parliamo di anelli guardiamoli tutti nel dettaglio tutti gli anelli che vedremo sono disponibili nella variante canna di fucile oro argento e ottone ma analizziamo adesso singolarmente questa è la variante canna di fucile e parliamo degli anelli semicircolari aperti in ferro metallico disponibili in tutte queste misure quindi dalla 40 per 30 alla 35 per 27 30 per 20 25 per 18 e anche queste deliziose più piccoline 20 per 14 15 per 11 e 10 per 7 proseguiamo adesso invece con quelli rettangolari che qui vediamo nella versione argento e questi sono in galvanica made in italy e hanno rispettivamente queste misure 50 per 15 40 per 15 30 per 15 e 25 per 15 adesso invece vediamo gli anelli ovali vedete con questa forma davvero molto particolare questi che vediamo adesso sono nella variante oro che ricordiamo essere presente in tutti gli anelli che stiamo vedendo allora questi invece misurano 40 per 15 30 per 12 25 per 10 e 20 per 8 ovviamente la misura si intende quella interna e infine vediamo l'ultima variante questa invece è quella ottone presente negli anelli semicircolari che stiamo vedendo adesso ma anche in tutti gli altri anelli visti prima questi sono anche in galvanica made in italy e misurano 50 per 32 40 per 27 30 per 20 e 25 per 17 ricordiamo che tutti gli anelli che abbiamo visionato finora sono disponibili nelle varianti oro canna di fucile ottone e argento e che le misure appena citate sono tutte misure interne all'anello a 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.